il diluvio il diluvio in realtà è la fine di un'epoca quando il tempo di un'epoca scade e molte cose cominciano ad appartenere al passato pensa quando c'erano le carrozze erano normali adesso se ne vedi passare una è come un fantasma tante cose scompaiono nei diluvi e tante persone non che muoiano ma cominciano ad appartenere soltanto al passato e si perdono il presente e il futuro tu cosa pensi di fare perché oggi è in corso un diluvio inesorabile inarrestabile accendi la televisione ascolta riconoscilo e la scelta è tra appartenere al passato appunto sprofondare quello che non c'è più oppure adattarsi alle nuove esigenze alle nuove autorità alle nuove masse oppure oppure c'è una terza opzione la felicità la scoperta autonoma libera ecco di questo parleremo come riconoscere il diluvio in corso quando aspettarselo nelle sue varie fasi come evitare di restare presi nelle sue morse grazie per l'attenzione e a presto